Mi dispiace che non ci sia stata Italia Viva, le Ministre di Italia Viva non abbiano partecipato a questo Consiglio dei Ministri, non abbiano deciso di dare il proprio contributo a questo importante risultato. Credo che per una forza politica sia sempre una sconfitta decidere deliberatamente di non sedersi a un tavolo, un tavolo poi così importante quale è quello istituzionale del Consiglio dei Ministri, quindi rinunciare a lavorare insieme ai propri compagni di viaggio per il bene del Paese. Un Ministro ha sempre la responsabilità e il dovere di partecipare a un Consiglio dei Ministri perché è qui che si discute e si prendono le decisioni. Purtroppo in questa vicenda devo prendere atto che da parte di Italia Viva si è mantenuta una posizione iniziale e nonostante a dispetto di tutti questi incontri non ci si è scostati mai dalla posizione iniziale, ritenendo evidentemente di essere depositari della verità. Ma la verità qui non esiste, esistono delle soluzioni plausibili, sostenibili, più o meno efficaci. Esiste quindi una mediazione e per vincere questa partita così importante dobbiamo tutti giocare nella stessa squadra, con lo stesso spirito di squadra, di collaborazione, aiutandoci reciprocamente. Dobbiamo tutti correre nella medesima direzione. Se un giocatore si ferma, se un giocatore inizia a pensare a sé o addirittura fa dei falli, fa degli sgambetti, noi la partita non la possiamo vincere e chiaramente siamo destinati a perdere. Quindi io l'ho dichiarato e lo confermo. Nei confronti di Italia Viva, dei parlamentari di Italia Viva, c'è la massima disponibilità, c'è sempre stata, anche a questi tavoli che abbiamo avuto specifici sulla riforma della giustizia penale, c'è sempre la massima disponibilità ad ascoltare le loro ragioni, a confrontarci con loro. Ma se il risultato deve essere o accettate la nostra posizione che rimane identica dall'inizio per 8, 10, 20 incontri, oppure non si potrà chiudere nulla, voi capite che non c'è nessuna possibilità di trovare un punto di convergenza.